E' un'estate davvero calda quella appena iniziata e non soltanto per le temperature già torride, ma anche per le tante trattative sulle quali sono attivi i dirigenti del Crotone. Pronti a rinforzare gli squali per la seconda stagione in massima serie. Un primo acquisto è già arrivato, ma andrà a rinforzare il settore giovanile. Si tratta del classe 2000 Lorenzo Costa, difensore centrale prelevato dal Novara. Dunque si inizia a guardare al futuro, ma c'è tanto da fare, soprattutto per il presente. Ed ecco che Orsino, Raffaele Vrenna, insieme al segretario Emanuele Roberto, stanno prima puntando ad alcuni ritorni. La strategia ci sembra quella giusta, calciatori che già conoscono la piazza, che hanno fatto bene. Perché non confermarli? Oltre a Budimir, per il quale ormai manca veramente poco, a meno di clamorosi dipensamenti, è vicino a vestire di nuovo la casacca rosso-blu anche Marcello Trotta, che aveva finito increscendo la stagione passata. Col Genoa poi si cercherà l'accordo per far tornare Alejandro Rossi, che, scaduto il prestito, è tornato alla base. Trattativa non impossibile, anche perché, dopo un inizio difficile, il terzino romano si è ambientato bene e gradirebbe un ritorno in Calabria. Al ritorno di Rossi è legata anche un'altra trattativa più suggestiva, quella che potrebbe portare ad Alessio Cerci, esterno offensivo che potrebbe liberarsi a parametro zero dall'Atletico Madrid, anche se, in teoria, il contratto scade il 2018. Cerci vorrebbe un riscatto in Serie A. Il Bologna, squadra che aveva in questi mesi mostrato interesse, sembra ora virare verso altri orizzonti. Ecco perché, con l'aiuto di Rossi, che potrebbe convincerlo in quanto molto amico dell'ex Torino, Crotone sarebbe la piazza giusta. Il nodo è l'ingaggio troppo alto per le tasche crotonesi, staremo a vedere. Troppo alto anche l'ingaggio di Antonio Cassano, per il quale sembrerebbe ci sia stato davvero un contatto, ma a nostro avviso non è una trattativa che si potrà concretizzare. Intanto Federico Ceccherini ha rinnovato il contratto, adeguando l'ingaggio, ma non la durata, visto che il contratto era ed è valido sino al 2019. Liberi di giocare è l'iniziativa dedicata a Dodo Gabriele, al quale appunto verrà dedicato un torneo che si disputerà domenica. È proprio così, liberi di giocare, liberi da ogni pensiero, liberi dalla mafia, liberi da tutto. I ragazzi nostri hanno il diritto di giocare, di divertirsi e praticare tutti gli sporti, di cui io poi, se praticano il calcio, a noi che siamo la delegazione di Crotone, fa ancora piacere. Però ogni ragazzo ha il diritto di esprimersi e di giocare liberamente dove vuole, con chi vuole e quando vuole. Soprattutto dobbiamo lottare perché non ci siano più vittime di mafia o di situazioni come quelle che ha vissuto la famiglia Gabriele. Noi siamo sempre al fianco della famiglia Gabriele, dell'Associazione Libra. Siamo mai da tanti anni partner di questo torneo di calcio, ma proprio fatto solo ed esclusivamente per non dimenticare, per ribadire sempre che le strade della legalità, della libertà, sono le strade più giuste. Quindi ai nostri ragazzi delle scuole calcio noi insegniamo soprattutto questo, il vivere comune, il vivere civile. Sì, ai campi di Macrilò, al campo dove c'è stato il tragico evento, noi ogni anno lì disputiamo la finale, disputiamo tante gare. E invitiamo sempre, era un torneo nato da una situazione quasi locale, adesso è diventato un torneo molto importante, un torneo regionale con squadre blasonate, squadre importantissime che prendono parte. Però io ho detto sempre a queste squadre che partecipano solo per ricordare Dodò e devono giocare con Dodò nel cuore. Grazie a tutti.